Lei ha detto no alle mani sulla città, impugneremo lo sblocca Italia. Esattamente così, con tutte le azioni giuridiche e giudiziarie necessarie e con tutte le iniziative politiche necessarie, perché è una legge incostituzionale che altera gli equilibri istituzionali e costituzionali e spropria il Comune di Napoli come città, cittadini, Consiglio Comunale e Sindaco, da decisioni fondamentali e poi apre la strada a stagioni buie. Nel nostro Paese i commissariamenti non hanno mai portato nulla di buono. Nella nostra città a cominciare all'inizio degli anni Sessanta, quando Francesco Rosi parlò di mani sulla città per finire ad epoche anche più recenti post terremoto, siccome oggi ci sono poteri ordinari che vogliono funzionare e vogliono farlo in collaborazione col Governo. Ci sediamo attorno a un tavolo, si decide tutti insieme, ma non sarà il commissario a decidere quello che accadrà a Bagnoli con soggetti privati. Su questo ne sono certo, perché siamo convinti della bontà delle nostre argomentazioni. Il primo passo è che ho dato mandato formale all'Avvocatura del Comune di Napoli di esperire tutte le azioni. Le azioni sono quelle presso gli organi costituzionali, quindi innanzitutto Regione Campania e Corte Costituzionale, giustizia amministrativa, giustizia ordinaria in tutte le sue articolazioni. Dopo tante critiche, l'è stato vicino anche Antonio Bassioni che sui social dice che è stato irresponsabile il Governo tirar fuori il Sindaco. Apprezzo questa argomentazione perché ritengo che sia un'argomentazione di buonsenso, non è una questione secondo me di chi il Sindaco, a chi appartiene come maggioranza politica, da chi è stato eletto. Io credo che espropriare un Sindaco eletto, io farei la stessa battaglia anche per un Sindaco in una città magari di centrodestra, è proprio grave, ed è ulteriormente grave che questa norma sia stata fortemente voluta dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi che è stato Sindaco, come se un domani il Presidente del Consiglio espropria la piazza della Signoria, gli uffizi e mezza Firenze, dice non ti preoccupare ce la vediamo noi con un commissario, ma non esiste, è proprio un'alterazione costituzionale, deve ritirare immediatamente quella legge, la deve cambiare subito. Lei ha parlato con Renzi? No, non ho parlato con Renzi, ma non perché non abbia potuto parlare, Renzi che ha interrotto i rapporti con la città di Napoli, ha tradito Napoli con la violazione di quel patto del 14 agosto, sono cose che non si fanno nei rapporti istituzionali, politici e credo anche tra persone che si debbono rispettare, questo Paese deve rinascere attraverso il rispetto e la dignità di ognuno, noi rispettiamo fortemente il governo, lo rispettiamo a tal punto che abbiamo lavorato, anche superando posizioni diverse nella nostra città, per arrivare a quel doppio accordo del 14 agosto, è stato un doppio accordo difficile, città della scienza, il patto sul SIN e sulle bonifiche, poi insomma lui si è tirato indietro, evidentemente ha voluto aprire la strada a qualcosa che a noi non piace, quindi oggettivamente al di là della volontà del Presidente del Consiglio, quella legge apre la strada a periodi assolutamente bui e non trasparenti che io ho chiamato mani sulla città, perché chi legge quella norma capisce perfettamente il pericolo e non se la può cavare il Presidente del Consiglio ipotizzando la nomina di un commissario, magari anche di una persona che possa essere rispettabile, il tema qua è giuridico, non è solamente di persone che vengono messe a ricoprire ruoli incostituzionali come un commissario su Bagnoli. Sindaco, a proposito di questo, le dice io non voglio attaccare il Premier, però lo sfido. Certo, lo sfido, nel senso noi siamo pronti, ma questo voi ve lo ricordate perché siete attenti osservatori, lo sto dicendo da settimane, ho detto chiamaci, non è che posso convocare io il Presidente del Consiglio, io sono una persona umile, sono un piccolo sindaco di strada di un'importante città del mondo, però è lui il Presidente del Consiglio, io non capisco perché non ci convoca, lui ci dovrebbe lui sfidare e magari dimostrare che noi non siamo in grado, probabilmente avrà ragione lui, probabilmente lo stupiremo con effetti speciali, gli faremo capire che noi siamo in grado di ricostruire domani i Bagnoli, partendo dai cittadini, dalla spiaggia pubblica, dal mare, dal paesaggio, dalle nostre imprese, dalle nostre università, insomma Napoli non è la Napoli che immagina forse Renzi e la sua squadra, cioè di gente che sta col cappello in mano, che si lamenta, questa è una città che combatte la camorra, è una città che si mette in prima linea, è una città che si mette in discussione, che sa dialogare tra forze politiche diverse, che ha un sindaco che si è saputo rigenerare da un momento difficile andando per strada, il Presidente del Consiglio dovrebbe guardare con attenzione, con rispetto a quello che sta accadendo nella nostra città, come noi abbiamo guardato con rispetto la sua scesa, la guida del governo della nostra città, è un problema di capire da dove vogliamo ripartire, noi ci siamo, se ci chiamo anche stasera anche stasera andiamo. Sindaco, lei parla di mani sulla città, uscendo dalla metafora la procua alla speculazione, usiamola in modo chiaro perché poi lo sblocca Italia non è solo un po' lo bagnoli, lo sblocca Italia apre a trivellazioni, cementificazioni, sfruttamento, ha detto ieri Salvatore Settis in modo straordinariamente incomiabile, cioè pensa Renzi nuovamente di far ripartire l'economia del nostro paese ripercorrendo gli errori del passato, cementificazioni, trivellazioni, petrolio, sfruttamento del territorio, grandi opere pubbliche, commissariamento, protezione civile S.P.A., vendita del patrimonio, esattamente la politica di Berlusconi, identica. Noi vogliamo provare a dimostrare invece che si può scrivere una storia diversa, che è quella della valorizzazione dei nostri territori, del rispetto della cultura, della rinascita del nostro paesaggio, della preservazione, non della svena e soprattutto del rispetto dei poteri ordinari. Io lo so che può non piacere che l'unico sindaco fuori dal patto del Nazarene è il sindaco di Napoli, però noi vogliamo essere rispettati per questo. Abbiamo delle idee diverse e secondo me un paese democratico cresce anche attraverso il confronto di idee diverse. Quindi commissariare il sindaco di Napoli attraverso Bagnoli è un'operazione indecente sul piano morale, politico e istituzionale e quindi su questo ci sarà una battaglia politica popolare, non violenta e pacifica molto molto significativa. E il governatore sicuramente non dà una mano? Non lo so, da come si muove mi pare di no, anzi, lui era al corrente prima ancora che venisse scritta la legge di come sarebbe stata scritta, la appoggia ogni giorno, la sostiene, va a braccetto con Renzi, ripeto, poi abbiamo un patto del Nazareno romano e un patto del Nazareno anche forse in salsa napoletana, ma io credo che sia anche, non è un fatto negativo che ci siano posizioni politiche differenti, purché ci si rispetti, Caldoro esprime una posizione legittima che io rispetto e con altrettanta sincerità vorrei che venisse rispettata la posizione istituzionale del sindaco di Napoli e non si usassero mezzucci formali, burocratici, giuridici per cercare di farlo fuori, perché non è una cosa bella, anche perché poi quando le cose sono ingiuste si ribaltano contro chi ne è il mandante e l'esecutore. Ma gli ha detto avvertamente che lei si deve adeguare però. Ma io appartengo alla filosofia di Di Andrè, quando credo in una cosa vado in direzione assenata e contraria. Sindaco, lei all'inizio del suo intervento stamattina in consiglio ha detto che non sono sospeso ma sono appeso, è una situazione che deriva dalla condanna per quanto riguarda l'inchiesta Why Not, lei ha presentato appello per quella condanna? Diciamo che da tre anni e mezzo da quando faccio il sindaco, un sindaco come me è sempre in discussione ed è giusto che sia così, lo dicevo in modo anche un po' scherzoso ma non tanto, perché noi abbiamo avuto una sospensione lampo profondamente ingiusta e intrisa anche di dubbi di costituzionalità, tant'è che un Tar con un'argomentazione molto articolata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale che ricordo che non è impugnabile, applicando la sospensiva perché c'è un danno molto grave di un sindaco eletto sospeso per una condanna in primo grado per abuso d'ufficio non patrimoniale, per fatti di quando faceva il magistrato, quando la Severino non c'era e adesso apprendo che il governo ha fatto attraverso il ministro dell'interno e il prefetto appello esclusivamente sulla sospensiva, quindi noi abbiamo un sindaco eletto già di strada ma ancora di strada, sospeso con sospensiva, appeso con la possibilità che possa avere la sospensiva della sospensiva della sospensione, un po' come un sacco di patate, un giorno lo teniamo a San Giacomo, un giorno lo buttiamo in mezzo a una strada, io come dire tutto è legittimo ma trovo un po' curioso questo appello perché mira esclusivamente a togliere il sindaco di Napoli da quella poltrona, perché siccome la questione di legittimità costituzionale non può essere toccata, il Paese ha aperto una riflessione, il Parlamento se ne sta occupando, io nel frattempo ho presentato come avevo detto un appello molto articolato contro la sentenza di primo grado che sono certo che verrà ribaltata in serie d'appello perché è una profonda ingiustizia e voglio credere che nel Paese ci siano magistrati in grado di riconoscere i propri errori e quindi di rendere giustizia, anche se in questi ultimi tempi devo dire pagine di ingiustizia abbastanza evidenti nel nostro Paese cominciano a essere troppe, penso a Stefano Cucchi, penso ai familiari delle vittime dell'Aquila e penso a tante altre cose che stanno accadendo, il rischio che sta correndo Nino Di Matteo in queste ore a Palermo, insomma il Paese vive un momento molto delicato e molte di queste storie di cui abbiamo parlato anche adesso secondo me si intrecciano più di quello che si possa immaginare. Quell'ordinanza è stato uno spartiacqua nella vita della città di Napoli e forse non solo, è stata un'ordinanza forte, coraggiosa, improntata su principi giurisprudenziali innovativi, seguendo anche le indagini della magistratura in altre città, un'ordinanza coraggiosa, difficile, che anche devo dire all'interno del Comune, all'inizio molti pensavano che fosse un qualcosa di improponibile, invece poi tutti si sono convinti, tutti hanno contribuito ed è stata talmente un'ordinanza giusta e fondata che ha retto sino al Consiglio di Stato e quella è un'ordinanza secondo me decisiva per questa partita e siccome uno dei soggetti attinti dall'ordinanza è Fintecna che ricompare nella norma su Bagnoli, insomma voglio dire è un sillogismo aristotelico abbastanza efficace questo aspetto, cioè Fintecna c'è nella partita, quindi Cassa Depositi e Prestiti, però dovendo pagare io credo che lì sono state inserite una serie di norme di salvaguardia per dare in mani libere anche a soggetti attuatori che non sono privati, quindi è qualcosa veramente di, non dico poco chiaro perché è molto chiaro, è qualcosa di inaccettabile. Sindaco, lei ha parlato di un tsunami che si sta battendo, la città metropolitana? Sì, dal primo gennaio, anche qui devo dire la verità siamo molto delusi dal governo perché ho fatto molti incontri con Del Rio, con Bressa, con la Presidenza del Consiglio, con il Ministero dell'Interno nei mesi scorsi, personalmente come Anci l'abbiamo fatta insieme all'Unione delle Provincie Italiane, il governo si è impegnato a mettere risorse, finora non ha messo un euro, si è impegnata ad allentare il patto di stabilità, non lo ha fatto, pensate che la provincia ha 100 milioni in cassa che non può utilizzare, quindi noi non potremmo utilizzare come città metropolitana perché c'è il patto di stabilità e viene messo zero nel bilancio per le scuole, non vengono messe risorse per il dissesto idrogeologico, non vengono messe risorse per le infrastrutture e per le strade, ma insomma io dico questo, ma uno che pensa che i sindaci, chi sta in prima linea deve solamente assumersi le responsabilità poi quando accadono cose che non vanno, devono calmierare il conflitto sociale quando le persone giustamente vengono a protestare, noi le responsabilità ce le pigliamo, ci prenderemo anche questa della città metropolitana, ma trovi il responsabile, anche qui il governo non mette risorse, non allenta il patto di stabilità, non interviene, eppure un governo anche qui guidato da un amministratore locale che sa perfettamente, gliel'abbiamo detto a Lanci quando c'è stato adesso il congresso nazionale, il tempo qui è veramente poco perché il primo gennaio avremo l'entrata in vigore piena della città metropolitana col superamento della provincia, noi siamo pronti ma rischiamo di affrontarla a mani nude, ovviamente lo faremo perché Napoli ha dimostrato comunque di avere una grande capacità di reazione, contrariamente a quello che si può immaginare, lo stesso avverrà la nostra area metropolitana e sono convinto che affronteremo nel modo migliore questa sfida sperando che il governo si assuma le sue responsabilità in modo pieno.